Grazie a tutti. Quello che chiedo di solito è la storia. Noi abbiamo un prodotto da Puglia, che è l'assemblea vaccinata, che è fantastica. Perché non viene utilizzato per questo? E' molto importante utilizzare non solo il riprendimento di solito, ma anche il nostro pericolato. E' un grande interesse, solo la riportazione pubblica, che è un interesse più pesante. Ma è un'altra cosa? E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? No ma è una cosa in generale. Sì, sì, sì. Abbiamo questo patrimonio. Ok, no. No ma è una cosa in generale. Sì, sì.